Devo iniziare dicendo Buon Natale. Fare auguri è sempre piacevole, perché è sempre guardare il bello e il positivo e volere che gli altri possano provare a incontrare il bello e il positivo. Ma non vi nascondo che quando si tratta di Natale ho difficoltà a fare gli auguri, perché, e l'ho detto ogni anno, lo ripeto anche quest'anno, purtroppo abbiamo trasformato il significato del Natale. Noi ci diamo da fare perché resti una bella favola, ma il Natale sa più di tragedia che di favola. Dire Buon Natale è guardare a Gesù. Lo dico con consapevolezza perché ormai comincia ad essere il grande assente in questa festa, quando è lui non solo protagonista, ma quello che dà senso a quello che avviene in questi giorni. Dire Buon Natale è in un periodo in cui, e penso alla mia città, a questa terra, si parla di licenziamenti, si parla di gente che ha difficoltà a sedersi a tavola per far festa, si parla di giovani che non hanno speranza, di bambini che restano per strada, che non sempre hanno la possibilità pure di andare a scuola. Si parla di famiglie in difficoltà, di gente che non ha il lavoro, che perde il lavoro, che ha paura di perdere la casa e non sapere come fare, di giovani che devono pigliare il pulmono, l'aereo per andare altrove, di malati che sono nelle loro case e tante volte assieme alla malattia fisica c'è anche quella della solitudine, di anziani che si sentono sbandati perché non hanno nessuno accanto. Si parla di gente che mette le mani là nei carsonetti e sono i nostri, non sono altri, che cercano qualcosa per poter mangiare, per potersi vestire. Si parla di gente che viene da altre terre perché ha voglia di vivere e vuole anche questa gente coniugare il verbo al futuro e non possono farle. Ecco che allora questa favola che abbiamo costruito fa pugni con la realtà che viviamo. Dire Buon Natale in fondo non significa speriamo che queste cose non avvengano, perché queste cose purtroppo avvengono e continueranno ad avvenire. Ma fare dire Buon Natale e dire guarda, anche se c'è questa situazione, guarda che la luce viene, che Gesù viene ed è su questa luce e su questo personaggio particolare che dovremmo poggiare la nostra vita perché quel bambino che parla oggi ci dice non aver paura, io ci sono. Abbiamo voluto fare un albero e metterlo nel salone, un albero che sembra secco, però lei l'ha appoggiato il bambino. E' quel bocciolo che spunta anche quando sembra che l'inverno prende il sopravvento. Nel cuore di tanta gente di questa terra e non solo c'è inverno dentro. Però il bocciolo può spuntare ma di fatti spunta perché la voglia di Gesù è essere presente e chi con Gesù cammina senz'altro trova la forza per andare avanti. Allora nel dire Buon Natale a questa terra da fratello, da padre, da amico è dire che desidererei davvero che nei cuori dove c'è sofferenza ci possa essere un po' più di serenità, che là dove c'è quella povertà che vi dicevo e la litania è lunga possa esserci davvero un po' più di speranza, che tutti insieme crediamo di più nella luce e che tutti insieme riusciamo, guardando lui, ad illuminare questa città e questa terra. La cosa che mi fa più male è sentire la rassegnazione. La rassegnazione è come la sabbia mobile, ti risucchi un po' alla volta e tu non te ne accorgi, ma poi ti ritrovi tutto risucchiato. Noi a furia di rassegnarci a tutto e a tutti stiamo perdendo l'abitudine di guardare avanti e di camminare. Io il giorno dell'Immacolata l'ho detto non possiamo solo vantarci di un passato, abbiamo il dovere di coniugare il verbo al futuro. Non è Agrigento è stata una bella città. Io vorrei poter dire con voi Agrigento è una bella città, perché Agrigento la luce ce l'ha, perché gli agrigentini hanno intelligenza e capacità che altri non hanno, perché fare Natale e vedere che di boccioli che spuntano non ce ne sono uno o due, sono tanti, e tanti boccioli che diventano fiori rendono bello l'albero e il giardino. Noi abbiamo la fortuna di essere a terra dei mandorli in fiore e tra pochi cominceremo a vederli nelle nostre campagne. Ecco, facciamolo spuntare nel cuore questo mandorle, questo fiore. Facciamo spuntare nel cuore questo Gesù che su quell'albero che sembra secco viene a parlarci di vita. Parlare di Natale è parlare di vita, è parlare di un bambino che viene a portare una novità. Lui è venuto per portare sconquasso nel mondo, perché era stanco di non essere conosciuto per quello che era, e Dio è misericordia, ed era stanco nel vedere gli uomini che se ne andavano strisciando i piedi. E lui è voluto venire a mettere quella marcia in più, dico, perché ognuno prendendo a consapevolezza, assieme agli altri, possa davvero fare quel tratto di strada necessario. Questa città ha bisogno di ognuno di noi. Ognuno, nel suo piccolo, nel suo grande, può e deve fare qualcosa. Allora, se ci vogliamo augurare, io dico vero Natale, non buon Natale, ecco, mettiamo questo Gesù nel mezzo, guardiamolo. E un bambino che sembra innocuo, invece già parla e sappiamo quello che vuole. mettiamoci in fila con lui e cominciamo a ripercorrere strade nuove, strade diverse, non soltanto perché guardando indietro abbiamo dei bei ricordi, ma perché è il futuro che ci chiede e quella luce che lui è venuta a portare non si spegne, perché lui è luce, è luce vera e acqua viva. Allora, concludo dicendo davvero buon Natale, che la speranza sia nel cuore di tutti, che quel bambino diventi per noi maestro, che quella grotta può diventare il centro del mondo e che quindi, dove c'è lui, ognuno di noi si possa sentire importante d'amore e centro del mondo. Se tanti insieme ci mettiamo, il mondo è già capovolto, aggrigento e già diversa. Buon Natale a tutti.